buonasera a tutti sono luigio naraku sempre fit e benvenuto del combattolo versione jump con l'ultimo video del festeggiamento del saiyan day nel mentre nel real sto scrivendo episodi su episodi della parte 3 e sprofondando nei reami di monster hunter rise e di star ocean last stop finalmente riesco a ritornare su dockan un secondo per parlarvi di una unit rr quindi rare summon rs in realtà rr che però ptc di cui ci tenevo a parlare perché davvero un unit fantastica e sono molto felice di averla trovata nella mia ricerca di broli parliamo infatti di trunksteen str tour non dockham festival della base di broli che voi potete trovare in qualsiasi base direi per fortuna perché è tantissima roba ma andiamo con ordine abbiamo 11.042 hp per 10.890 attacco e 7.230 di difesa da ability free leader al berserian 4 chi 120 per cento stats ottimo è un è una categoria che prende un fottico e mezzo di personaggi e poi si utilizzato come leader pressa poco in quasi ogni evento del gioco perché 120 non è tantissimo ma non fa neanche totalmente cagare e quei quattro chi sono molto golosi per alcune lr gone agl che hanno un po di problemi con la 18 passiva ragazzi la il fatto di creare degli rr barati rimane attacco difesa 20 per 200 per cento ok attacco difesa più 200 per cento già così è ottimo però possiamo mai aspettare da un pg che abbia questa questa possibilità media chance di lanciare un additional special è un 30 per cento ci sta niente sbagli niente di strano più 3 che 40 per cento stats agli e berserian così da nulla hanno creato il nuovo buffer e berserian che è una bestia assurda perché parte già da 200 per cento che difesa e anche da altre cose che vedremo adesso che un pochino è un fice no perché non lo potrete fare usare in tutti quanti team la sua caratteristica più interessante però intanto un pg con additional integrato e come avere l'additional 30 il che è impossibile da avere salvo utilizzare anche gli equip però lui è integrato ciò nonostante consiglio blindarlo full additional per massimizzare le possiedi più special e un 40 per cento che difesa che tantissimo come ho detto tantissime volte in questi meta stanno mettendo una marea di buffer specifici e questo trance a mio avviso si è composto in buona parte degli e berserian che vogliono essere davvero ottimali anche perché riesce anche a tancare quello che però lo rende davvero interessante la sua special divisa in due parti la prima è la special normale che è un aumento d'attacco difesa per un turno è un ea media chance di stannare un quant'è 30 per cento di stan con 30 per cento di attacco e difesa per un turno che non è male se però avete in team scusate nel turno goantin a una unit super attack sono felice di vedere che non stanno facendo morire questa meccanica come la retreat ma la stanno dando anche a pg comuni comunque il che è ottima come cosa se avete un gohan si cambia in 50 per cento attacco per un turno 30 per cento di difesa con effetto kaioken e già mi fa impazzire 50 per cento di stan se mettete questo pg accanto un gohan magari proprio con agl in modo a farlo partire con nove chi più gli eventuali che non ho visto non penso di dire chissà quanti chi di passiva però se lo fate andare vicino a gohan agl avrete un quantitativo di vantaggi assurdi perché in primis avrete permanente la sua unit special attack cosa fantastica sia in road che in rival quindi sia in history rival o quello che è in road perché avete un 50 per cento di stan con un pg che comunque riesce a tancheggiare in history perché avrete l'effetto kaioken qui potete arrivare a valori di difesa molto alti senza contare che potrà lanciarne più di una c'è ragazzi siamo di fronte davvero al nuovo alla nuova frontiera dei buffer spero li facciano tutti così perché questo buffer tanta roba di una categoria poi ampia non è anche a dire che lo hanno fatto planetari destroyer che non sarebbe stato male avere un buffer o un planetari destroyer magari bello pompato non fatto di una categoria ampissima che continuerà all'infinito a ricevere potenziamenti perché lo sapete anche voi gli hybrid sono gli hybrid ce ne saranno fino alla fine dei tempi di hyper saiyan gohan insegna e tanta roba davvero tanta roba tutto questo ragazzi noi ci vediamo direi domani sera per vedere se cos'è che ci porterà questo pesce d'aprile ragazzi per ora sappiamo unicamente che andranno a tour i personaggi 8 bit sono abbastanza interessato a vedere come si comporteranno e pare ci sarà ormai dovrebbe anche essere quasi certo salvo che non sia davvero un pesce d'aprile il docan fest di videl il che mi perplime parecchio cioè va bene abbiamo saltato san valentino sono stati unit pepi questo san valentino che mi ha di sotto il cuore sinceramente però sinceramente mai mi sarei aspettato assolutamente mai il docan fest di videl perché cioè piccon ancora ancora ci potrà stare perché fa parte di un film è un pg importante di quel film e va bene ma videl vedremo finirà per essere come al solito un pg con poco hype mega barato lo faranno diventare il miglior pg del gioco e saremo costretti a pullarla che io ci scherzo ma pensate se lo fanno davvero domani dovremo avere un dato download quindi vedremo di che morte morire buona serata e al prossimo video